In questo video, vedremo come costruire un organo virtuale, al computer. Useremo OrganBuilder, un programmino creato da Vincent Forman, un costruttore di organi virtuali reali, per creare la parte software dei suoi strumenti. Nella pagina principale che si apre, è già preimpostato un organo con due manuali ed una pedaliera. Per prima cosa, diamo un nome italiano ai manuali. Chiameremo Pedaliera, il pedal. Chiameremo Grand Organo il primo manuale. Infine, chiameremo Corale Espressivo il secondo manuale. Se clicchiamo su Organ, appare la pagina nella quale possiamo memorizzare i dati storici dell'organo che stiamo costruendo. Se clicchiamo su ogni manuale, possiamo scegliere il layout con il quale visionarlo. Scegliamo, ad esempio, il layout con i tasti bianchi di legno. Ora andiamo nella scheda Wave Sample. Qui abbineremo i nostri suoni campionati ad ogni manuale. Andiamo a selezionare, dal nostro computer, una delle cartelle, una per singolo registro, nella quale abbiamo salvato i nostri Wave. Selezioniamo, nella cartella GO, il principale da 8 che andremo ad abbinare al manuale Grand Organo. Se clicchiamo sulla pata appena importata, sentiremo un'anteprima di tutte le note per quel registro. Per abbinare la cartella al suo manuale, trasciniamo la pata sul nome della tastiera corrispondente. Da adesso, la cartella sarà abbinata al Grand Organo. Selezioniamo la cartella Bordone da 8 da abbinare al manuale corale espressivo. Andiamo ad ascoltarlo. Potremo scegliere anche la nota da riprodurre. Procediamo nell'abbinamento. Infine abbiniamo, sempre per esempio, un contrabbasso da 16 alla pedaliera. Naturalmente, questa operazione, andrà fatta per tutti i registri di tutti i manuali del nostro organo. Possiamo vedere il layout della console, entrando nella scheda Panel Layout. Potete vedere le tastiere al loro posto. Vediamo, adesso, come posizionare i tiranti dei registri, nella nostra console. Come potete vedere, i tiranti possono essere posizionati a sinistra, a destra o al centro della console. Possiamo anche indicare quante sono le posizioni orizzontali e verticali dei registri. E definire la disposizione parallela o alternata. Per adesso, lasceremo tre posizioni orizzontali, e sei verticali. Mettiamo una etichetta in testa ad ogni colonna di pistoni. Andiamo a prelevare l'unico registro, per adesso, del grand organo e trasciniamolo nella prima casella in alto a sinistra. Il bordone da 8, lo posizioniamo sulla prima casella della colonna corrispondente. E lo stesso facciamo per l'unico registro della pedaliera. Andiamo a definire, adesso, gli accoppiatori. Quelli che accoppiano la pedaliera ai manuali, li posizioniamo sulla pedaliera. Quelli che accoppiano i due manuali, li posizioniamo sotto la prima tastiera. Infine andiamo ad attivare una staffa del crescendo per la nostra pedaliera. Lasciamo il valore di default di 20 decibel per l'abbattimento del suono. Purtroppo, Organ Builder non consente di vedere l'anteprima dell'organo così come lo abbiamo costruito. È arrivato, perciò, il momento di salvare il nostro progetto, e di esportarlo nel formato per Grand Orgue. Ora, lanciamo Grand Orgue, ed andiamo a caricare l'organo appena costruito. Chiudiamo la finestra delle opzioni e quella degli errori. Vedremo in un prossimo tutorial cosa significa, ed andiamo a verificare il funzionamento dell'organo. Per prima cosa dobbiamo portare a zero il valore del volume, altrimenti non ascolteremo niente. Come sentite l'organo funziona perfettamente. Proviamo adesso gli accoppiatori. Qui abbiamo commesso un errore, accoppiando la prima tastiera a se stessa. Lo correggeremo sul progetto. Proviamo per ultimo la staffa del crescendo della pedaliera. Tutto ok. Finisce qui questa breve introduzione alla costruzione di un organo virtuale. Prossimamente vedremo come modificare i file testuali ODF e quindi perfezionare al massimo la grafica e la qualità dei suoni. Grazie a tutti.